Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è sabato 27 ottobre, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise, che titola con Asrem Percopo ai commissari e tutto nero su bianco. Il direttore generale difende l'operato dell'azienda sanitaria e risponde alle critiche del tavolo tecnico ministeriale. Comune arriva all'ok all'aumento dell'IMU, bilancio rimandato a lunedì. Campobasso ieri seduta a fiume del Consiglio. Il Consiglio comunale ha dato l'ok all'aumento dell'IMU, ieri seduta a fiume fino a sera, ma per il bilancio se ne parlerà da lunedì. Isernia, Palazzo San Francesco, dipendenti a rischio. Petrollini a Roma per sbloccare i fondi. San Giuliano di Puglia, decennale dal sisma, il cratere riparte dalle scuole. Intanto oggi partiranno le manifestazioni. Termoli tecnici impegnati per ore, esplodono le tubature allagati Asrem e ospedale. Consiglio di Stato, sentenza rinviata la prossima settimana. E dopo Renzi, Reggi, Fattappa e Molise, cambieremo l'Italia. Il numero due di Matteo Renzi, ieri a Campobasso. Pizzone incidente aereo, chiuse le indagini, fu errore umano. Secondo la procura il pilota sbagliò i tempi di virata. E per quanto riguarda lo sport, Lega Pro, Campobasso a Salerno, ricordando gli angeli di San Giuliano. Eccellenza Campobasso 1919, scoppia il caso Vittorio Esposito. Atletica su e giù, questa sera si presenta all'edizione numero 39. E adesso vediamo la seconda e la terza pagina del quotidiano del Molise. Reggi, vogliamo cambiare l'Italia. Arriva in Molise il coordinatore della campagna elettorale di Matteo Renzi. Il primo cittadino di Piacenza ha ascoltato le difficoltà dei sindaci e degli amministratori locali. Totaro riprenderà presto tutte le attività politiche, il peggio è passato. Ringrazio tutti per l'affetto. Operai forestali AIB, ancora non vediamo le mensilità di settembre. Il comitato si appela alla classe politica, chiediamo più garanzie. Primarie del centro-sinistra, Maio, dovranno essere più trasparenti. Lotto per 18, banchetti in piazza per il referendum promosso dai comunisti italiani. E poi consiglio di Stato, suspensa rimandata ad inizio settimana. Continua il balzer di gossip e indiscrezioni, ma ancora nulla di ufficiale. Percopo è il lavoro fatto, è tutto nero su bianco. Il direttore generale avremmo potuto fare di più, ma abbiamo contro troppi commissari. L'ASREM si difende e rifiuta le critiche espresse dal tavolo tecnico e dagli organi di informazione. Sisma in Calabria e Basilicata, Patriciello sono vicino ai cittadini. E in ultimo Sanità nasce l'albo delle associazioni di volontariato, c'è tempo, fino al 13 novembre. E adesso vediamo il settimana, informa Molise, il quotidiano online, controlliamo l'home page. Mario Monti e il volo di Stato per la Bocconi. E poi ancora assunzioni sospette in sanità, nuovi risvolti. Informazioni distorte sul bando concorso, il Molise in miniatura, la replica di Scarabeo. Poi la dirigenza ASREM replica le ultime accuse sulla gestione sanitaria. E ancora Movimento 5 Stelle contro l'ASREM, appalto lievitato. La notizia da Termoli, Fiat Powertrain, richiesta cassa integrazione ordinaria per 2.163 operai e 291 impiegati. E adesso passiamo ad un nuovo quotidiano che è la Gazzetta del Molise. i 2 milioni di spese da smentire. Poi abbiamo un elenco, piano concordato preventivo, 800 mila euro. Commissario liquidatore, 600 mila euro. Consulenze varie, 400 mila euro. Direttore generale, 240 mila euro. Altro dirigente, 200 mila euro. Società interinale, 150 mila euro. L'Oscar del giorno viene affidato a Ferruccio Capone, mentre il tapiro a Nicola Cefaratti. Passiamo anche per la Gazzetta del Molise, alle pagine interne. Vediamo Percopo, siamo lieti della verifica della gestione aziendale da parte del dottor Basso. E ancora ASREM, due anni di battaglie vinte. La direzione aziendale ha tracciato un bilancio dei suoi anni di attività, tra gestioni commissariali, piano di rientro e difficoltà politiche. Passiamo adesso a primo piano Molise, vediamo la sua prima pagina. Regionali, attesa al cardiopalma. Elezioni annullate, l'indiscrezione trova terreno fertile nel PDL e tiene banco per tutta la giornata. Ancora nessuna decisione ufficiale dai giudici del Consiglio di Stato. Appesa un filo, la decima legislatura. E poi passiamo a Venafro, moglie del boss Iovine, allontanata dalla città, troppo vicina alla provincia di Caserta. Isernia, aereo precipitato, chiesto il processo per il pilota. Nell'incidente muoio un uomo di 42 anni. Da Campobasso, l'IMU sulla prima casa non si abbassa, ha bocciato l'emendamento che la riportava al 4x1000. Isernia, compensi indebitamente percepiti, e il commissario vanno restituiti a rischio posti di lavoro e concorsi. Giovanni chiama la mamma. Sto bene, il militare di Busso è rimasto coinvolto nell'attacco a Herat, lo scontro a fuoco in Afghanistan. Sta bene, Giovanni Tamburro, il militare coinvolto nello scontro a fuoco vicino a Herat. Ha parlato con la mamma e l'ha tranquillizzato. Presto tornerà in Molise. E per quanto riguarda lo sport, Lega Pro, Campobasso per in bimbo, dubbio, Iuliano, alla Rechi Lupi vicini agli Angeli. Eccellenza, il sesto campano cerca Gloria in casa del Venafro. Il vasto Girardi scende in Puglia. Serie B-Win, Virtus Lanciano con il Verona al Bente Godi. Società rossonera in vendita. Anche per primo piano Molise. Apriamo la seconda e la terza pagina. Vediamo la politica, costi della politica. Se la Regione è inadempiente, pagano i consiglieri dopo lo stop della bicamerale ai tagli. Primarie trasparenti. L'appello dei dirigenti del PD. A un mese dal voto, il segretario Pietro Maio incalza i renziani sull'albo pubblico. Basta col doppio gioco. Passiamo alle regionali. Aspettando il verdetto tra tensione e indiscrezioni. Ieri l'ennesimo sussulto, il Consiglio di Stato ha annullato le elezioni. E poi i dirigenti di via Petrella, la sanità malata non abita qui. Perco, Popaglione e Testa rivendicano gli obiettivi raggiunti dall'ASREM. Patricello vicino alle popolazioni di Calabria e Basilicata. E in ultimo più qualità dei servizi con l'albo aziendale delle associazioni di volontariato. Passiamo ai fatti del nuovo Molise. Vediamo come titola il quotidiano. Sono pronto a fare un passo indietro. Il numero uno del Molise si lascia andare ad alcune riflessioni da effetto dirompente. Michele Iorio riflette dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi a candidarsi alla guida del paese. Sanità e il manager Percopo si sbottone e rivela cosa ha trovato all'ASREM. Conferenza stampa con i direttori Paglione e Testa. E se Massimo Romano e Paolo Frattura decidessero di andare a cena, prove di dialogo nel centro-sinistra. Tra le notizie del giorno abbiamo cura di emagrante per il comune di Campobasso. L'assessore al bilancio tira la cinghia. A Ferrazzano l'ulivo di 300 anni per l'olio benedetto sarà utilizzato per le funzioni religiose. Con corsi irregolari, personale a rischio licenziamento. Isernia, un centinaio di dipendenti del comune. Stop dell'ANAS, non si farà la bretella di Cepagna. Inutile e costoso doppione. Passiamo poi alla seconda e la terza pagina di attualità. Sanità, indice verso la politica. Conferenza stampa del manager dell'ASREM Angelo Percopo. L'analisi di due anni di gestione e la lotta agli sprechi. Iorio pronto a fare un passo indietro se quattro chiacchiere con il presidente della regione aspettando il Consiglio di Stato dal ritiro politico alla condanna di Berlusconi. Il numero uno del PDL molisano si sbottona. A cena con frattura per ricomporre la sinistra. Romano, Gela, non ci sono le condizioni. Petraroia dal PD avverte, teniamoci pronti a votare, evitiamo divisioni. In ultimo primarie trasparenti, lo sbaglio di Renzi, rivolgersi al garante della privacy. Passiamo adesso alla sezione relativa al Molise del quotidiano Il Tempo. Sanità, gli assenteisti vanno al riesame. Intanto ASREM annuncia la stretta su prestazioni e posti letto. Il 6 novembre il Tribunale esamina i ricorsi contro la sospensione dal servizio. Provincia di Isernia sono in arrivo gli stipendi dei dipendenti. Ancora da termoli multe e sequestri di pesce nei ristoranti della costa. Isernia ha revocato la gestione dei parcheggi cittadini alla società Metropac. La SMI rompe le trattative e licenzia 66 lavoratori. In ultimo da busso Tamburro, sto bene, non è successo niente. Sul suo profilo Facebook il militare rassicura di non essere stato ferito in Afghanistan. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali. Iniziamo proprio con il Corriere della Sera che titola con Diritti TV, Berlusconi condannato il Cavaliere, una barbarie sentenza politica fuori dalla realtà. In primo grado 4 anni di carcere, interdizione dei pubblici uffici per frode fiscale, assolto con falonieri. E poi Formigoni manda le urne la regione Lombardia. Il PDL ora chiama Albertini al Fano, consultazione aperta per il candidato premier. 007 duello con i rottamatori, sfida generazionale nel film di Skyfall. E poi passiamo alla Repubblica. Fondi neri condannato Berlusconi, giudici del processo Mediaset, ha una naturale capacità a delinquere. Quattro anni di quei tre condonati. E interdizione dei pubblici uffici, assolto con falonieri. Il Cavaliere Paese Barbaro, il PDL ora torni in campo. E poi terremoto nel Pollino, un morto e migliaia di sfollati. Il governo ai sismologi di missionari. «Tornate al vostro posto». La storia, Ergastolo a Parolisi, ha ucciso lui Melania. Per quanto riguarda il caso, addio al divorzio breve. Altra promessa tradita. Passiamo adesso al quotidiano La Stampa. Ancora titola con la condanna di Berlusconi. Condannato Berlusconi, quattro anni, tre condonati per frode fiscale. L'ex premier, sentenza politica, processo per la compravendita dei diritti TV Mediaset per i giudici di Milano. Ci fu un'evasione notevolissima. Teramo ha massacrato Melania. Ergastolo per Parolisi, applausi alla sentenza. Ai parenti della vittima, fatta giustizia. In Liguria, termine remoto e paura nel Pollino. In due anni, più di 2.000 scosse. Allarme allagamenti, oggi scuole chiuse. E poi New York, la babysitter assassinata, in un raptus uccide, assassina, scusate, in un raptus uccide due bambini e poi si taglia la gola. Costi della politica, la Camera ci ripensa. Regioni senza tagli pagano i consiglieri. Giovani industriali all'attacco, via ladri e ignoranti. Passiamo al messaggero di Roma. Berlusconi condannato, 4 anni per frode fiscale, barbari e verdetto politico. Diritti TV, l'ex premier interdetto dai pubblici uffici fino al 2017, con falonieri assolto. Ergastolo per Parolisi ha ucciso lui Melania. La famiglia di lei tutti sconfitti, a casa di lui ora la bimba. La terra trema nel Pollino, un morto evacuato, l'ospedale. Abbiamo una fotonotizia. Il caso Lazio, il governo chiede elezioni, presto polverini tra gennaio e febbraio. E poi ancora gli studenti contestano i partigiani, così si cancella la nostra memoria. Passiamo al quotidiano libero. Caccia grossa, Berlusconi condannato a 4 anni. Il passo indietro non basta, lo vogliono vedere in carcere o sull'astrico, come profetizzò D'Alema. Per i giudici il Cavaliere è un delinquente nato, ma per le stesse accuse era stato assolto tre volte. L'articolo 18 rivive per sentenza, la prova legge Fornero inutile. Sconti a chi fa scioperi, selvaggi, monti di mezzo alle sanzioni. Il governo italiano ha già ingabbiato i Marò a scambio di prigionieri con l'India. Passiamo adesso al quotidiano, il giornale. Resistere, resistere, resistere. Berlusconi condannato a 4 anni. I giudici di Milano alla fine riescono ad azzoppare il Cavaliere sui diritti TV. Lui sentenza politica, è una barbarie, non mollo. Ecco perché fa bene. Lo sfogo, un avvertimento mafioso, viene voglia di andarsene. E poi, se in media sette evasore, versa 750 mila euro al giorno, al fisco. Non poteva non sapere, una regola ad persona, ma per gli altri non vale mai. Travaglio peggio di me, ma io lo voglio libero. Il caso Sallusti. E poi ora l'India minaccia di arrestare la Ferrari. Passiamo adesso all'informazione economica con il sole 24 ore. Dagli incentivi alle imprese, una dote per il cuneo fiscale, stop del Parlamento alle luci spente nei luoghi pubblici. Nella legge di stabilità entra il piano Giavazzi per una cifra tra 1 e 2,5 miliardi. Poi processo media, sette Berlusconi condannato per l'ex premier e una sentenza politica. Paese barbaro assolto con falonieri, 4 anni per frode fiscale, interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Morelli via i ladri, gli ignoranti e gli incapaci dalla politica, giovani di Confindustria e il convegno di Capri. Statali, Consiglio dei Ministri, niente trattenuta del 2,5% sulla liquidazione. E poi vediamo il PIL. USA sorprende i mercati al più 2%. Dopo un avvio negativo le borse virano in positivo. Milano più 0,36%. L'attesa sul terzo trimestre era per un più 1,8%. Investimenti fissi aumentati del 14,4%. La fabbrica recuperata racconta il Paese, ed è un articolo di Paolo Bricco. E poi in ultimo, terremoto nel Pollino, paura, un morto e decine di sfollati. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Allegri, aggrappato a San Siro, il Genoa, Siena, Palermo alle 18. Il brasiliano, titolare dopo 8 mesi, è la carta giocata dal tecnico per puntellare la sua panchina. Boateng, pronto ad entrare. L'allarme di Agnelli, così il calcio muore. Dentro la crisi, il presidente della Juventus, l'Assemblea dei Soci, riforme, stadi, viva e giustizia. Non c'è tempo da perdere, a rischio anche il terzo posto, Champions, la nazionale risale. E poi ancora l'Inter, stramaccioni meglio di Muse, vittorie di fila tra Coppe e Serie A. Militari ucciso, ultra del Livorno, girano le spalle durante il servizio. E poi vediamo Formula 1 prove, Vettel sprint, Alonso tiene, l'India attacca la Ferrari, via il simbolo della Marina. E in ultimo, dei feriti, Napoli e Cannavaro, rischio penalità. Passiamo adesso al Corriere dello Sport. Juve e Fiorentina che scontro, parole di fuoco tra finanza e mercato. Della Valle attacca, gli Agnelli sono ragazzi poco lavoratori, per trovarli bisogna andare in discoteca. Agnelli risponde, vado poco in discoteca ma ho festeggiato lo scudetto, lo auguro a Della Valle. Marotta attacca, Barbatov, il nostro tentativo è stata la fortuna dei viola, hanno evitato una figuraccia. Prade risponde, Marotta dovrebbe ridire quelle stesse parole a me guardandomi negli occhi. E poi Allegri, Milan, è il giorno della verità, ultima chiamata contro il Genoa di Del Neri e il Palermo cerca punti sul campo del Siena. Scommesse Napoli, deferito, poi parte l'ESA, illecito di Giannello, omessa denuncia di Grava e Cannavaro, il club rischia l'uno a uno. Ancora Andanovic, così l'Inter ha cancellato Giulio Cesar, freddo, puntuale e preciso anche in Europa, è decisivo, stramaccione solo Coccola e per i tifosi, è già un idolo. In ultimo, Caos Mancini, i senatori del City contro di lui, oggi affronta lo Swansia, è obbligato a riscattare le delusioni in Champions per allontanare le critiche. Ancora Masters, la Errani cade ad un passo dal sogno KO dopo tre ore e mezzo. Per quanto riguarda la Formula 1 in India, Paul alle 10.30, Ferrari in Marò diventano un caso. E questo era l'ultimo quotidiano, adesso guardiamo insieme le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per sabato 27 ottobre. L'ulteriore cedimento dell'alta pressione lascerà spazio al transito di una perturbazione, che porterà piogge diffuse sui settori tirrenici e su quegli adriatici nella prima parte della giornata. Migliora tuttavia ad est con ampi rasserenamenti dalla serata, temperature in rialzo, mari mossi o molto mossi, fino ad agitati a largo. Passiamo ora alle temperature. Campobasso, minima 13, massima 16 gradi. Isernia, minima 15, massima 22 gradi. Termoli, minima 19, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. La rassegna stampa termina qui. Vi diamo appuntamento alle 13.50 con l'informazione di Molise TV. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.